Sarà una giornata all'insegna dello sport e della tutela dell'ambiente, quella promossa da Swim Run South, che si svolgerà sabato prossimo alle Cesine a partire dalle 9. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con Decathlon e la riserva naturale WWF e le Cesine, vedrà i partecipanti impegnati nella raccolta dei rifiuti, aderendo così al World Cleanup Day. Le adesioni sono risultate numerosissime e continuano a crescere di ora in ora grazie al connubio tra sport e natura veicolato dal mondo social. Verranno infatti ripulite le spiagge adiacenti alle oasi le Cesine, nell'ambito di una giornata all'insegna del rispetto per l'ambiente. Il consiglio, spiega il presidente dell'associazione sportiva dilettantistica Swim Run South, Paolo Zongolo, è quello di portare con sé scarpe chiuse e guanti. Verranno infatti ripuliti dai rifiuti il tratto della spiaggia denominata San Giovanni e la spiaggia a sud della Casa Matta, che si trova al termine della cosiddetta strada del pesce. Si effettuerà un clean-up collettivo e contestualmente verrà praticato dello sport all'aria aperta con l'obiettivo di proteggere la natura. Tutte le informazioni per aderire all'iniziativa è possibile così reperirle presso i punti vendita a Decathlon. Plastica, carta, vetro, alluminio e rifiuti di vario genere verranno rimossi per liberare una parte dell'area protetta del comune di Vernole e riconsegnarla così alla natura. Un'operazione lodevole, programmata al tramonto dell'estate, che rende onore all'associazione dilettantistica sportiva preseduta da Paolo Zongolo.